Ben ritrovati amici del canale youtube Gianluca Rossi TV del sito Gianluca Rossi.it Allora prima cosa complimenti naturalmente alla Roma, la Roma che ha contenuto l'Ajax sul pareggio e quindi come unica italiana è in semifinale di Europa League. L'Inter l'anno scorso ad agosto era arrivata in finale, risultato sempre troppo dimenticato a mio giudizio, ma risultato importante, il migliore in epoca recente di qualsiasi squadra italiana, vedremo se la compagine giallorossa adesso attesa dal Manchester United che ha già eliminato il Milan riuscirà nell'impresa di andare in finale, dall'altra parte del tabellone c'è un interessante via Real Arsenal, potrebbe esserci la finale tutta inglese o potrebbe esserci, che ne sappiamo noi, un'altra italiana in finale dopo l'Inter e quindi è un risultato importante. C'è da dire che la Roma per perseguire questo obiettivo è praticamente uscita anzitempo dalla corsa verso la Champions League e questo conferma in qualche modo forse anche il campionato dell'Inter, visto che ieri parlando con Spillo Altobelli per chi ha seguito, insomma la grande marcia trionfale dell'Inter, ahimè comincia da quando si esce dall'Europa, questa è la verità, segno insomma che forse siamo ancora un pochino fermi al fatto della scelta tra campionato ed Europa, perlomeno per quella che è la conformazione delle nostre squadre. Vabbè comunque sono discorsi che ci portano troppo lontano, c'è sempre il vizio qua di andare troppo lontani e di non godersi l'oggi, l'ho già detto mille volte, sapete che c'è una bella poesia su Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico per chi ha fatto studi classici che dice quante bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuole essere lieto sia del doman non vè certezza. Sì del doman non vè certezza, cioè noi non sappiamo che cosa potrà accadere domani. Tutti quelli che vi raccontano di certezze a proposito di domani mentono, mentono a proposito della proprietà, ne ho già parlato diverse volte, ci sono due modi di fare questo mestiere. C'è il giornalista e c'è il velinaro, l'addetto stampa, chiamatelo come volete, che di solito piace tantissimo ai fanatici, a quelli che si vogliono sentir raccontare quello che loro pensano. Però il mestiere del giornalista, anche se si mette a fare lo youtuber come il sottoscritto, assolutamente con pochissima esperienza rispetto a tanti altri che rispetto, insomma l'attività del giornalista è quella di informarsi. C'è una situazione economica che non è assolutamente positiva. Ed è vero che non è assolutamente positiva non solo per l'Inter, non è positiva nemmeno per il Milan e nemmeno per la Juventus. Ma qui si tende a personalizzare tutto, no? Si tende a dire, e no, se tu dici che la situazione debitoria dell'Inter è grave è perché sei un anti-interista. E io credo che invece chi fa questo mestiere abbia l'obbligo di segnalare quelle che sono le cose positive e quelle che sono le cose negative di ogni società. Dichiarandosi, io sono dichiaratamente a favore dell'Inter, ma non posso chiudere gli occhi ovviamente davanti a cose che vanno chiarite e che magari si chiariranno nel miglior modo possibile. Non dimenticate che, come vi ho sempre detto, in oltre 32 anni di Inter ho sempre considerato nel mio cuore straordinariamente positivi coloro che hanno comunque portato il nome dell'Inter in albo d'oro. Quindi questo riguarderà anche Suning, ma non posso dimenticare che la fama di cattivi pagatori, purtroppo a livello mondiale, è qualcosa che ci portiamo dietro e che va al più presto debellata. Proprio ieri mi sono messo in contatto con Alberto Forchielli, qualcuno di voi forse che non segue solo il calcio lo conosce, Alberto Forchielli, personaggio indubbiamente un po' particolare, anche nel linguaggio, però è, credo, l'italiano che conosce meglio la Cina, in assoluto, l'imprenditore italiano che conosce meglio la Cina, perché ha lavorato tantissimi anni, lavora tutt'ora in Cina ed è tutt'ora in Cina e mi ha promesso di prendere informazioni sulla situazione di Suning, anche in madrepatria, diciamo, e chissà che nei prossimi giorni non riesca a offrirvi il suo punto di vista. Noi dobbiamo cercare di mantenere sempre un certo equilibrio, quando dico dobbiamo mantenere un certo equilibrio bisogna diffidare di coloro naturalmente che ossessionati dall'Inter vi raccontano che l'Inter sta per portare i libri in tribunale, non è così, non è assolutamente così, ma parimenti dobbiamo diffidare anche di coloro che fanno un po' i velinari senza avere alcuna informazione a favore della società Inter e lo fanno gratuitamente, quella non è un'attività giornalista, è un'attività di addetto stampa, quindi tutto va bene, state tranquilli, tutti gli stipendi sono stati pagati, tutte le pendenze sono state pagate, ci sono indubbiamente ancora dei problemi, dei problemi che non ha solo l'Inter, attenzione, problemi li ha anche la Juventus nel suo bilancio, se qualcuno legge i bilanci, problemi li ha anche il Milan, anche se se ne parla poco, ma indubbiamente i bilanci delle tre grandi in questo momento piangono, piangono lacrime amare, dovute alla situazione Covid, ed è un discorso, ripeto, che riguarda tutto il calcio italiano, che credo stia per chiudere con una perdita questa stagione di qualcosa come 750 milioni di Euro, cioè record ovviamente l'assenza del pubblico e tutto, però dicevo del domando non vi è certezza e poi vi sto parlando io di cose che al momento è impossibile stabilire, con una certa soprattutto competenza e conoscenza e quindi concentriamoci sull'oggi perché siamo all'antivigilia di Napoli-Inter, 31esima giornata, come ben sapete l'Inter per vincere il campionato, immaginando che il Milan le vinca tutte, avrebbe bisogno di 13 punti, io non credo che il Milan le vincerà tutte, dobbiamo cercare di capire che cosa può succedere in Napoli-Inter, allora diciamo che dopo 11 vittorie consecutive abbiamo una certa tranquillità d'animo e possiamo anche parlare del fatto che questa partita più che temuta, lo dico ripeto per ragioni di classifica, se sarà una partita più o meno spettacolare, ve la ricordate la partita d'andata il 16 dicembre, partita sbloccata su calcio di rigore di Lukaku, invertimmo proprio lì una certa tendenza negativa negli scontri diretti, Andanovic era l'epoca, vi ricorderete degli Andanovic out, che mi hanno sempre fatto ridere un po' come i Conti out, che grazie a Dio sono completamente spariti in questo momento, Andanovic fece due parate enormi, una su Insigne e una su Politano, Petagna colpi un palo, ma anche Lautaro ebbe un'occasione nei primi minuti, io me la ricordo bene, la partita che è passata alla storia come una partita che aveva dominato il Napoli, non è stato così, è stata una partita complicata che però l'Inter ha portato a casa e da lì si cominciò a devincere un pochino la forza di questo gruppo. Come sarà questa partita è difficile dirlo, perché ovviamente il Napoli viene da una serie di buoni risultati, questo è indubbio, ma l'Inter viene da 11 vittorie consecutive e secondo me ha anche giocato meglio l'ultima volta contro il Cagliari, quindi bisogna vedere insomma un po' il discorso del possesso palla, chi decide di farlo, chi decide di aspettare l'altro. Sono abbastanza d'accordo con Ciccio Colonnese che l'altro giorno diceva attenzione perché se l'Inter dovesse andare in vantaggio poi diventa difficile per il Napoli ovviamente tenere botta perché a quel punto il Napoli si scoprirebbe e l'Inter sa essere devastante nelle ripartenze. Però è un Napoli certamente pericoloso, è un Napoli che ha in Osimene nei suoi attaccanti, sicuramente giocatori molto importanti che può fare male, è anche vero che però i tre gol che ha preso Coltrotone mi hanno fatto pensare che a livello difensivo qualche crepa c'è nel Napoli e dovremmo essere bravi ovviamente a sfruttare queste crepe. Ripeto, non sarebbe un dramma se anche non dovesse arrivare la dodicesima vittoria, però è una settimana importante con tre partite perché abbiamo il Napoli, poi abbiamo la trasferta alla Spezia e poi abbiamo il Verona il 25 aprile in casa. Ecco io credo che da queste tre partite avremo sicuramente le idee più chiare. Quello che mi aspetto o quello che desidero, il Napoli ecco in questo buon ultimo periodo ha però dimostrato soprattutto dal punto di vista mentale una carenza. La partita con la Juventus, il famoso recupero, non ha saputo essere la squadra di Gattuso quella che abbiamo poi conosciuto in altre partite. Forse gli è venuto un po' il braccino contro una grande. Ecco da lì se dovesse venire un po' il braccino anche al Napoli che gioca in casa contro l'Inter, beh avremmo l'assoluta consapevolezza che peraltro già abbiamo che l'Inter è grande anche nel trasmettere un certo timore agli avversari. Vedremo e naturalmente ci sentiamo domani per la vigilia. Ciao a tutti e forza Inter.